La Juve batte un colpo ragazzi, derby d'Italia e lo vinco di Bianconeri, 3-2 partita non bella dal punto di vista tecnico perché ho visto un marasmo, una confusione incredibile, però tanti episodi, setta moniti, due spulsi e inizio dicendo che chi è Calvarese che è arbitrato, non vorrei dire cavolate, mi sembra che è lui, arbitro Calvarese, non ci siamo caro arbitro, perché già uno che mi fa 10 munizioni, 2 espulsioni e poi mi è sembrato un arbitro che si fa condizionare dalle proteste dei giocatori, quindi non sto discutendo che ha sbagliato delle scelte perché poi gli errori li facciamo tutti, si mangia il gol il giocatore può sbagliare l'arbitro, però proprio non mi piacciono gli arbitri che si lasciano condizionare, perché l'arbitro deve avere personalità, deve decidere lui a prescindere da tutto. Comunque la Juve che è ancora in corsa quindi per la Champions, secondo me deve fare ormai la corsa sul Napoli perché domani è una partita non scontata con la Fiorentina anche se la Fiorentina è già salva, però la Juve tiene viva la speranza Champions. Allora, la Juventus, diciamo Pirlo oggi ha schierato una formazione con praticamente Ronaldo e Kulusevski davanti, ma Kulusevski si occupava di schermare Brozovic, che è una tattica che fu vincente, se vi ricordate bene, nella semifinale di andata di Coppa Italia a San Siro, vinta 2-1 proprio dagli uomini di Andrea Pirlo. Partita che è finita proprio adesso, l'Inter con la formazione tipo, quindi Conte non ha regalato la partita, anzi l'Inter ha lottato fino alla fine con le unghie e con i denti, infatti è stata una partita poi alla fine con l'espulsione di Betancourt e l'espulsione di Brozovic, adesso ci arriveremo. Comunque, primo tempo che la Juve ha avuto un atteggiamento più propositivo, non giocando bene, però ha creato qualcosina in più, c'è stato questo rigore e diciamo la trattenuta di Darmian c'è, non è nettissima però ci può stare e Ronaldo sbaglia il rigore, diciamo Andanovic, vabbè lo sappiamo, non parla rigori, lo intuisce, però Andanovic è un po' sfigato quest'anno perché parò rigore a Ibra, ha parlato oggi però l'ha ribattuta e Ronaldo ha ribadito in rete. Poi il rigore di Lukaku, lì è un fallo fortuito di De Ligt, diciamo che a Matisse De Ligt gli capita ogni tanto di fare qualche errore un po' fortuito, banale, successe anche l'anno scorso a San Siro con il fallo di mano, partita che la Juve poi vinse e Lukaku spiazza il portiere, quindi veramente Lukaku miglior rigorista del campionato, senza dubbio, veramente molto bravo. E poi Juan Quadrado che è un tiro deviato, lui aveva tirato radente l'erba, deviazione, quindi Quadrado all'Inter segna sempre, poi vedremo che ha fatto anche doppietta su rigore, e Andanovic vedete che ormai rimane un buon portiere perché poi ha parato rigore e tutto, ha fatto anche partite importanti quest'anno, però bisogna dirlo che non è più l'Andanovic di 2 a 3 anni fa, lui è dell'84 se non erro, quindi 37 anni e si sentono, perché sì la deviazione ha cambiato completamente la traiettoria, però un mezzo errore oggi, un mezzo errore col Verona, un mezzo errore, capisci no? Quindi Andanovic il prossimo anno poi per una grande Inter che punterà anche in Champions League a fare bene, non va bene, ok? Ci vuole un portiere più giovane, magari Andanovic può fare da chioccia, ok? Poi al secondo tempo diciamo Conte ha fatto un cambio offensivo perché toglie Darmian già ammonito, tra l'altro mette Perisic, quindi l'Inter ha cambiato, ha fatto il forcing, ha tenuto il possesso del pallone. Juve che aspetto e riparto, giustamente, anche perché poi l'Inter ha qualcosa in più, no? Se vuole giocare riesce a imporre il suo gioco in questo momento. Poi l'espulsione di Betancourt che fallo su Lukaku e lì ho capito che Calvarese non è capace arbitrare, perché lui stava quasi per non fischiare il fallo. Poi ha visto le proteste e è ritornato sui suoi passi, ha fischiato fallo e ha ammonito, ma quella è un'ammunizione che non ci sta, secondo me, ok? E anche perché poi Betancourt già ammonito, è espulsione, quindi è un'espulsione che ha condizionato la partita, anche se comunque l'Inter, vabbè, alla fine tanto ha perso, però stava già premendo al di là dell'uomo in più e dell'uomo in meno. L'Inter stava imponendo il suo gioco, quindi, però, oggettivamente è una munizione molto severa, secondo me, ok? Poi, vabbè, i tre cambi della Juve, quindi ha tolto Ronaldo, vedete, no? No, casualmente togli Ronaldo e vinci, no? Perché Ronaldo, secondo tempo, in fase di non possesso, dato che l'Inter teneva palla, tu dovevi avere un uomo che andava a pressare, Ronaldo non lo fa quel gioco lì, quindi ha fatto benissimo Pirlo a toglierlo. E, vabbè, è entrato Sensi, ha tolto un difensore Bastoni, ha fatto entrare Vessino, che tra poco sfiora il gol, grande parata di Scensdi, l'autogol di Chiellini, infatti io, quando annullato il gol, mi sembrava che era Chiellini, che inizialmente tratteneva Lukaku, quindi, per me, il gol è regolare, e niente. Poi, alla fine, il rigore di Perisic, Perisic è ingenuo, non è un rigore solare, però è un rigore che ci sta, bravo Quadrado a fare la finta, e poi, Quadrado non è un rigorista, però, personalità, si sentiva in forma, se l'è conquistato, e ha calciato un rigore come si deve calciare, perché se tu non sei un rigorista, devi incrociarla, rasoterla, diciamo, incrociarla di potenza, quindi non guardare al portiere, tirare, fare gol, quindi, bravo Quadrado, sono i suoi primi gol in campionato, e poi l'espulsione di Brozovic, che si è un po' innervosito, però partita veramente molto convulsa, tre rigori, un mucchio di ammoniti, eccetera, quindi, gestione dell'arbitro che non mi è piaciuta. Quindi, vabbè, l'Inter, una sconfitta in dolore, una Juve che ho visto con l'atteggiamento giusto, una Juve mediocre, ma con l'atteggiamento giusto, che è ancora in corsa per la Champions, però dipende tutto dal Napoli, ok, è nelle mani del Napoli, comunque, va bene? Ragazzi, tanti like al video, iscrivetevi, ci vediamo tra poco con Roma-Lazi. Ciao ragazzi!